Tutti i nostri animali, la domanda che vi faccio e mi faccio, amano venire in vacanza con noi? Io ero convinto di sì, poi mi è venuto qualche dubbio. Allora, meglio chiedere a chi ne sa più di noi, eh? C'è con noi Stefania Meschini, la nostra amica veterinaria. Ben trovato! Che bella, che bella, che bella, che bello trovarti. Allora, con gli autori ragionavamo, parliamo di animali paganti, poi qualcuno gli è venuto il dubbio. Ma tutti gli animali che abbiamo in casa, e ne abbiamo di ogni tipo, amano andare in vacanza. Mi sa che non è, vero? Non tutti, e soprattutto non è che non piace o piace, ma è giusto o non è giusto, secondo la loro etologia. Allora, partiamo da quelli che gli piace sicuramente andare, il cane. Ne abbiamo già parlato, farebbe tutto con noi. Il cane vive, lavora tutto l'inverno a casa, cioè andando a passeggiare, mangiando 12 volte al giorno, giocando, perché lui poi c'è l'estate e si rilassa. È certo, eh. Io rinasco cane, il mio cane, perché alcuni cani invece non sono fortunati. Io no, rinasco un altro animale e te lo dico la prossima volta. Eh no, eh no, eh no, non si può ricattare. Io rinasco gatto, cioè il gatto fa meno del cane. Scusa, eh. Da questo punto di vista mi sa che c'è ragione, però io so più cane come carattere, quindi il gatto è troppo avanti per quanto mi riguarda. Però, insomma, siamo tutti d'accordo, cane insieme a noi ci viene volentieri. Il gatto, che dici? Dipende, dipende a volte sì, a volte no, ma ne parliamo se vuoi la prossima volta. Scusa, quelli che amano venire in vacanza con noi invece sono tra i tanti il furetto. Ma quanti furetti abbiamo in Italia a casa? No, sono tanti, sono tanti. I furetti? Il furetto si affeziona molto a noi e ama viaggiare con noi. Cioè il furetto è quello lungo? È un mustelide. È lungo e stretto. Sì. Io l'ho visto... Tipo una mangustina. Io l'ho visti su internet e fanno cose a parte che si rivolta... Esatto, vedi? Ecco, li stiamo vedendo, stanno a giocare pure loro. Loro sono curiosissimi e quindi per la loro indole amano le novità e quindi viaggiano molto volentieri con noi. Ma un furetto non si può portare al guinzaglio? Il furetto si porta al guinzaglio, ci sono dei particolari guinzagli che si incrociano tra le zampine davanti e si portano a spasso. Sono però curiosi e bisogna stare attenti perché si infilano un po' ovunque e anche quando li porti a spasso per terra, mangiano di tutto. Ah sì, quindi bisogna stare... Ma adesso mi ha fatto tenere in mente l'immagine di quando ero, mica tanto bambino, cioè di una trentina di anni fa. Nel mio quartiere, io so, dalle parti di Piazza Mazzini, c'era un signore che aveva una pecora a guinzaglio. Tu lo sapevi che ci sono pure le pecore a casa, a Roma. Cioè adesso ho avuto proprio un flash. E non è che l'ho vista una volta sola, ma l'ho vista decine volte. Anzi, chi si ricorda e avesse magari preso una foto, mandatela alla detazione di camp perché la faccio vedere che è straordinario. Un signore vestito di giacca e cravatta e girava con questa pecora grossa. Vabbè, allora il furetto gli piace andare in vacanza, però dobbiamo essere attenti a noi che non si mette in qualche buco che poi non lo tiriamo più fuori. Sì, loro spesso scappano se non li mettiamo in sicurezza nell'appartamento dove magari andiamo in vacanza o negli alberghi, quelli che li accettano. E attenzione, il trasporto sempre dall'interno del trasportino, devono essere anche loro vaccinati, soprattutto per il cimurro. Ma pensate, il furetto... Loro si beccano la nostra influenza? No. Sì, quindi anche lì facciamo attenzione e non li teniamo insieme a persone che magari possono avere il virus dell'influenza. Noi mi hai aperto un mondo col furetto. Però in estate ce n'è un pochino meno, se ne parla più d'inverno. Stefania, il furetto, ripeto, mi hai preso di sorpresa, però non mi prende di sorpresa il coniglio. Io ho anche un nipote che ha comprato, ha un coniglietto, lui è innamorato folle. Sono tanti conigli. Il coniglio, sì, è il terzo di mani da compagnia. Il coniglio invece, essendo una preda, dal punto di vista etologico, sempre, soffre un pochino lo stress del cambiamento, lo stress del viaggio. E quindi per il coniglio magari cerchiamo una sistemazione differente, non la portiamo in viaggio perché magari si stressano pure con il calore, soffrono di colpo di calore, abbiamo già parlato altre volte. E quindi possono andare in blocco gastrointestinale quando si stressano ed è un'emergenza. Ragazzi, conigli, teneteli a casa perché ho capito che la vacanza loro fa male. Uno degli animali che ha loro di più, il pappagallo, soprattutto quelli grandi. Lei ricorda quella che ha il pappagallo del marito che la becca, che è geloso. Proprio, questa è un'altra storia. I pappagalli amano tanto stare con noi, stabiliscono un rapporto elettivo con l'uomo che lo ha adottato, quindi loro amano stare con noi. Attenzione alle fughe. Anche loro devono essere visitati prima della partenza perché è comunque un animale delicato, quindi deve essere in ottime condizioni di salute. Può essere portato a spasso sulla spalla con delle pettorine particolari che gli impediscano di ferirsi e di fuggire. E soprattutto appunto di fuggire perché è un pappagallone se c'è tutto. Sì, alcuni, quelli che li hanno abituati al volo libero, che è una particolare disciplina che li addestra a volare liberi, senza corde, senza elastici, senza nulla, e tornano. Quelli lì sono un pochino più avvantaggiati perché anche se si fanno un voletto, poi di solito tornano sulla spalla. Ma un pappagallone in albergo viene accettato? Va sempre chiesto perché a volte alcuni alberghi hanno delle stanze dedicate per accogliere gli animali e altri invece non ne sono dotati perché sono magari più piccini. Senti, lo so, a qualcuno può sembrare molto strano, però ci sono tantissimi italiani che amano i rettili e hanno il terrario a casa con i seppenti. Proprio questa mattina in clinica c'era un'iguana enorme al guinzaglio, è bellissima. Allora, non cercate di leggere il mio volto, io amo tutti gli animali, anche loro. Però mi chiedo, ecco, se ne stiamo vedendo uno, un esimpario. Questi non li accettano in albergo però. Allora, è difficile ma anche perché sono pochi quelli che viaggiano con le loro famiglie umane perché di solito vivono, sono alloggiati in delle teche con delle temperature e delle umidità stabilite per ogni specie. Però d'estate i serpenti, soprattutto quelli africani, sarebbero in teoria bene. Anche però per l'umidità poi siamo messi un pochino male. Viaggiare con una teca, un metro per due metri è difficoltoso. Mi sembra complicato. Anche quelli li lasciamo a casa. Allora, vedete, con Stefania ogni volta si impara, io davvero penso di essere uno che ama il mondo animale, lo studia. Però ogni volta che viene Stefania mi accorgo di essere ignorante, quindi Dio di buona.